Allora partiamo con l'installazione del nostro Integrated Development Environment o l'IDE fondamentalmente. Che cos'è l'IDE? Vi ricordo che tecnicamente è un software che ci aiuta a sviluppare altro software in questo caso. Allora per una questione di semplicità vado ad utilizzare di tutti quanti gli IDE disponibili. Quello che per me è un po' più semplice tra virgolette per quanto riguarda l'approccio didattico è proprio Eclipse. Allora vado a cercare Download Eclipse. È un progetto totalmente open source ed è supportato ovviamente dalla community. È per questo che gli do molta importanza. Vado a scaricarlo e lui mi dice ovviamente potrebbe cambiare la tipologia di sito web da quando scaricate tra virgolette Eclipse e quando vedete il video. Non vi preoccupate. L'importante è che cercate qualcosa di tipo install your favorite desktop IDE packages o IDE come vi pare. Andiamo su Download e scarico la versione X86 o 64. Mi porterà ovviamente alla scelta. Allora vado ovviamente in Download. Ok? Se volete poter fare delle donazioni o altro. Praticamente attendiamo il download di questo pacchetto. Nel frattempo che noi scarichiamo anche questo pacchetto che cosa ci serve? Allora ci serve il Java Development Kit. Ovviamente quel set di librerie che ci aiuteranno tantissimo a lavorare. Tra virgolette. Quindi a sviluppare le nostre applicazioni da avere a disposizione librerie per fare debugging, per fare tante tipologie di operazioni che ci possono essere estremamente utili. Quindi vado a cercare. Quindi Download JDK. Ok? Allora lo cerco. Tra virgolette dovrebbe comparirvi il sito internet di Oracle e qui c'è un Java Downloads Oracle. Andiamo a vedere. In questo momento c'è la Java 23. Ok? E la Java 21 che è l'ultima long term support fondamentalmente. Quindi che cosa faccio? Posso andare a scaricare quella in supporto a lungo termine perché mi viene garantito una frequenza di aggiornamenti e correzioni di ban critici che è molto più lunga delle versioni in attuale release. Quindi clicco su JDK 21. Verete? E vado a scaricare. Guardate. Qui ho Linux, Mac OS X e Windows. Clicco su Windows e mi scarico l'X64 MSI. Quindi Microsoft Installer. Che è la versione più semplice dell'installazione. Clicco su Download. Ovviamente mi verrà scaricato prima anche questo elemento. Attenzione ad una cosa molto importante per noi. Vado ad installare prima il JDK così almeno Eclipse praticamente troverà già il JDK installato e non dovrà fare delle integrazioni particolari o comunque non dovrà portarsi dietro delle librerie che scarica lui di default. Ok? Quindi attendiamo questi 20 secondi del download ovviamente del JDK 21. Abbiamo quasi completato. Posso chiudere tutta la parte di... quindi questo qui lo posso chiudere. Lascio tutto quanto aperto. Cioè almeno una scheda dovrebbe rimanere aperta. Ed eccolo qui. Vado ovviamente ad aprire il mio JDK 21 nella parte finale. Attendiamo qualche seconda e dovrebbe partire l'installazione. Ovviamente vado in Next. È un ad free. Ok? Quindi non si porta dietro delle pubblicità o altro. Ok? Attendo la copia dei file e l'installazione. Non dovrebbe metterci molto. Infatti eccolo qui. Clicco su Close per terminare l'installazione. Vado sui download. Ok? Quindi vado a ricercarmi invece Eclipse con Java Runtime Environment che in pratica è quello che gli serve semplicemente per sopravvivere. Ovvero per eseguire le nostre tipologie di applicazioni tramite una parte di esecuzione. Ok? Qui che cosa devo fare? Devo selezionare Eclipse IDE. Ok? For Enterprise Java and Web Development. Semplicemente conterrà un set di funzionalità standard e principali per lo sviluppo web. Se seleziono la prima parte fondamentalmente ho soltanto praticamente mi predispongo la tipologia di sviluppo per un approccio molto locale. Invece ci serve proprio la parte di Enterprise Edition. Quindi ci clicco sopra e vado in Install. Attendo qualche minuto. Potrebbe metterci un po' di tempo a seconda di quella che è la velocità del vostro network e soprattutto non solo del vostro network ma anche del network delle università. Perché il progetto Eclipse è sponsorizzato da tante università sparse nel mondo e ovviamente tutti questi pacchetti che state scaricando utilizzano le reti universitarie. Infatti vedete che cosa potrebbe comparire. Ci sta mettendo più tempo del normale. Non vi preoccupate in maniera assoluta. Tra poco si sbloccherà questa situazione e tra qualche minuto avremo disponibile Eclipse. Una cosa un po' particolare che notiamo, soprattutto in questa tipologia di installazione, che potevo selezionarla prima come riferimento, è che lui si porta dietro il requisito di installare la Java 21 Plus Virtual Machine, ovvero dalla 21 in poi. Noi avevamo già la 21 che abbiamo installato prima in precedenza e potevamo selezionarla. Però selezionando JDK22 lui va ad installare praticamente anche questa tipologia di Java Development Kit. Dopo vedremo che le nostre applicazioni potranno scegliere se quindi installarsi con la JDK21 o la JDK22. Sarà una cosa abbastanza semplice. Una volta completata l'installazione, praticamente vediamo questo dopo 5 minuti buoni effettivi. Clicchiamo su Launch per vedere se tutto quanto funziona. La vostra versione potrebbe essere differente dalla mia, non vi preoccupate. Diciamo che Eclipse è abbastanza standard, non effetto a operazioni di aggiornamento molto particolari. Allora, la prima cosa che mi viene richiesto è selezionare quello che è un Workspace. Voi dovete immaginare il Workspace come una sorta di scrivania dove mettere tutti quanti i vostri progetti. In questo caso voglio selezionare Workspace diverso da quello che è di default, che sarà sicuramente l'Eclipse Workspace. Vado in Browse, posso creare un'altra cartella, quindi vado sempre su Academy che è il mio utente. Clicco su una cartella e la chiamo Eclipse YouTube Workspace. Clicco su Seleziona la cartella, ok, e clicco su Launch. Quindi fondamentalmente ogni singola volta che io apro Eclipse mi verrà richiesto di selezionare il Workspace. Perché? Perché tecnicamente potrei avere il Workspace personale, quello di lavoro e volerli lasciare totalmente indipendenti. Quindi vi ricordo che l'utilizzo del Workspace per noi è fondamentale. Allora, l'unica questione è che ogni tanto abbiamo qualche problematica, ok, relativa a che cosa? Guardate, quando lavoriamo con Windows, c'è Windows Defender che è attivo, ok, e in pratica è come se andasse a controllare il processo che occupa la memoria di Eclipse e lo praticamente, diciamo, lo va a controllare molto frequentemente e potrebbe darci dei problemi perché, ad esempio, non ci fa avviare la nostra applicazione, la individua con un virus e altro. Guardate cosa faccio. Clicco su Esclude Eclipse IDE dall'essere scansionato per Improved Performance, quindi per aumentare le performance di Eclipse. Perché Eclipse purtroppo è famoso per essere uno degli IDE un po' più pesanti che noi abbiamo a disposizione, per un concetto principale che si chiama concetto delle Perspective. Il concetto di Perspective in Java è molto 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 semplice da comprendere. Praticamente, guardate, utilizzerò Draw per farvi un esempio. Allora, in pratica come funziona? Più che in Java, in Eclipse, perdonatemi. Allora, guardate, questo è il nostro Eclipse Core. Che cos'è il Core? Tecnicamente tutte le volte che identifichiamo il Core di un'applicazione, fondamentalmente identifichiamo quello che è la base, ok? Tecnicamente sarà un set di funzionalità che noi principalmente non vedremo. Bene, in questo momento, quando vediamo Eclipse, vedete, io ho una scheda fondamentalmente che si chiama la Perspective di Welcome. Ok? Quindi che cosa succede? Sopra il Core è come se ci fosse questa Welcome. Welcome. Quindi fondamentalmente cosa succede? Se io chiudo, ovviamente, questa Perspective, tecnicamente non potendo vedere mai il Core, viene sostituita questa Perspective, quindi viene cambiata, nella prospettiva di sviluppo, guardate, qui sopra c'è scritto Java Enterprise Edition. Quindi è cambiata questa Perspective in, guardate, JEE, Java Enterprise Edition, che è quella che ci serve. Ovviamente ogni singola Perspective da cosa sarà composta. Ragazzi, da tanti pezzi, guardate questo Project Explorer, che praticamente è un altro elemento che ci ritroviamo nella parte di sopra, quindi tra poco capirete per quale motivo vi sto facendo questo piccolo appunto. Questo qui sarà il Project Explorer, lo vado a posizionare esattamente qui sopra, poi nella parte di destra ci sarà l'outline, guardate, quindi outline, e poi nella parte bassa e così via ci stanno altre schede, tra virgolette qui in mezzo ci sarà ovviamente l'altro blocco, ok, a prescindere adesso dalla prospettiva che comincia a diventare un po' complesso, questa qua è la view di dev. Bene, spoiler, scusatemi, queste si chiamano views, ok, e posso ovviamente riorganizzarle, ok, e riposizionarle esattamente come voglio. Come faccio? Praticamente le prendo, le trascino, ok, vedete, da una parte, da un punto all'altro, ok? Bene, tecnicamente cosa succede? Se io rompo la mia applicazione, ovvero, scusatemi, rompo la mia prospettiva, posso sempre andare su window, perspective, guardate, qui abbiamo tutte quante le impostazioni della nostra prospettiva, ok? Quindi vado su window, perspective, c'ho reset perspective, lui mi chiede conferma e praticamente viene rimesso esattamente tutto quanto come prima. Questo ci aiuta per evitare di avere problemi relativamente al, oddio, non so dove ritrovare i pezzi. Quindi per cambiare perspective, quindi che cosa facciamo? Ritorno ovviamente su questa tipologia di approccio, ok? Guardate, ritorno ovviamente sul Java e mi ritrovo window, perspective, c'ho open perspective. Qui posso aprire tante tipologie di perspective diverse, c'è la versione di Java Standard Edition, quindi la versione di programmazione stand alone, c'è JPA, la parte di debug. Ad esempio, se apro la perspective di debug, praticamente io ho appena fatto questo. In pratica ho creato un nuovo livello, richiamato tecnicamente un nuovo livello, che si chiama debug, ok? Che sarà diverso da quello che avevo in precedenza. Tecnicamente però, guardate, qual è l'idea? È che se il nostro occhio sta qui sopra, noi vediamo la perspective di debug, ma sotto c'è quella di Java Enterprise Edition. E infatti, guardate cosa succede, quindi nella parte alta, in alto a destra, posso vedere le perspective attualmente attive, ok? In questo caso posso switchare sulla perspective precedente e posso ritornare sulla perspective questa appena aperta. Vi ricordo una cosa, attenzione a non aprire troppe perspective, perché questa tipologia di operazione ovviamente che cosa fa? Beh, mi riporta ovviamente davanti al nostro attore la Java EE e ovviamente se faccio la stessa identica operazione di prima, praticamente lo, scusatemi, vado a fare questo qui, praticamente lo riporto avanti e dietro. Quindi questi livelli vengono visti dall'attore, ok? Nella maniera di chi viene per primo. Quindi, tecnicamente, se apro troppe perspective, cosa succede? Mi decrementa le prestazioni della mia prospettiva. Infatti, qui sopra avete tante tipologie di operazioni che potete fare, tra cui il close perspective, che vi fa risparmiare ovviamente tanta memoria rispetto ad una pila di prospettive che potrebbero caricarvi troppo il sistema. Benissimo. Il bello dell'ecosistema Eclipse è che, tra virgolette, è totalmente customizzabile. Bene. Allora, ci siamo riportati ovviamente nella parte di sviluppo Enterprise Edition, perché dobbiamo sviluppare le nostre API, le nostre API REST oppure dei servizi web. Bene. Però, tecnicamente, per sviluppare, tra virgolette, queste tipologie di sistema, o comunque sia per utilizzare il framework Spring Boot, ok, noi abbiamo un potenziamento che possiamo installare all'interno del nostro IDE. Allora, qual è questa tipologia di potenziamento? Un plugin, ok? Come si installano i plugin all'interno di Eclipse? Guardate, qui sopra noi abbiamo ovviamente Project, Search, Navigate e così via. Qui, nella parte di Help, ok, ho una cosa chiamata Install New Software, oppure Eclipse Marketplace. Perché? Perché da qualche anno a questa parte è stato introdotto, tra virgolette, una sorta di sistema di ricerca abbastanza rapida dei nostri plugin che abbiamo a disposizione da parte della community, ed un sistema di installazione rapida di pacchetti. Bene, guardate, tra quelli più popolari probabilmente che cosa abbiamo, la navigazione impiega qualche secondo, abbiamo proprio Spring Tools, ok, also known as Spring Tool Suite, ok? Se non ce l'avete come primo, non vi preoccupate, potete andare direttamente sul Search, ok? E cercare ovviamente Spring Boot, ok? Cerco il mio tool e guardate qual è la situazione, mi rilascio, comunque sia, mi installo esattamente questo sistema. Clicco su Installa, guardate, tra poco ci verranno chieste alcune conferme, questi sono i software che verranno installati, ok? E quelli che sono requisiti, cioè scusatemi, quelli che sono necessari ovviamente ci vengono indicati. Questo elemento che è in pratica il Microservices Dash è estremamente utile per noi perché ci aiuterà a capire come funzionano le architetture anche abbastanza complesse. Clicco su Confirm, guardate, sta calcolando le dipendenze, e tra poco ci verrà chiesto di accettare qualche licenza, probabilmente se non fa parte dello stesso identico set di licenze compatibile con Eclipse, ok? Quindi, tecnicamente, se il plugin non ha delle richieste di licenza particolare, probabilmente va ad ereditare quello che è quello di Eclipse. Proprio a conferma di ciò, vedete, questo mi viene richiesto di cliccare su Accetta i termini di licenza, vado su Finish, ovviamente leggetevi tutta la licenza se ne avete bisogno, e qui sotto vediamo l'avanzamento di installing software del 15%. Guardate qui sopra, ok, quelli che sono le icone, perché tra poco cambieranno, ne verranno aggiunte di altre, ok? Il software potrebbe metterci un po' ad installare, semplicemente perché il numero di pacchetti che stiamo scaricando è bello grande, ok? Se abbiamo una richiesta di questo genere, ci viene richiesto di effettuare, cioè comunque sia di confermare la sicurezza della provenienza dei server da dove sta scaricando il tool, in questo caso, questo qui è un content delivery network, ovvero un cdn, di spring.io, che ci sarà tanto, tanto, tanto utile, clicco su Trust Selected, per effettuare le nostre operazioni di creazione del progetto, perché? Perché tecnicamente un progetto Spring Boot lo posso creare sia, ovviamente all'interno di Eclipse, grazie a questo tool fantastico, ma lo posso creare attraverso una tipologia di approccio che è leggermente diversa, che scarica il template dal web. E dopo vi faccio vedere, una volta che abbiamo completato, come funziona. attendiamo qualche secondo, andiamo a confermare anche gli altri tipologi di approccio, ed eccolo qui, per rendere effettive le modifiche dobbiamo restartare Eclipse, ok? Quindi, attendiamo che si riavvia. Ci verrà chiesto, ovviamente, di selezionare il workspace, ok? Almeno una conferma. Ed eccolo qua. Guardate, in pratica sono cambiate le icone, infatti qui sopra abbiamo un piccolo esagono che si chiama Boot Dashboard, che serve proprio a capire, o comunque sia ad aprire delle schermate dedicate soltanto a Spring Boot, ok? Quindi fondamentalmente abbiamo la conferma che il nostro elemento, che comunque sia il nostro plugin, sta funzionando correttamente. Adesso passiamo alla prossima lezione, per quanto riguarda la creazione di un progetto sia all'interno di Eclipse, sia tramite spring.io. Grazie a tutti.